Continua l'attività di prevenzione e contrasto le diffusioni del coronavirus da parte di Coggesa. Ieri, per tutta la giornata, si svolta una nuova sessione di screening dei dipendenti con testi rapidi e antigenici per accertare eventuali contagi da Covid-19. Coggesa promuove e organizza da mesi, su impulso del CDA, composto dal presidente Nicola Guerra, dei consiglieri Sandro Ciacchi e Valentina Di Benedetto, lo screening collettivo dei lavoratori per la prevenzione del rischio di contagio dal virus, con la finalità di contenere l'epidemia tuttora in atto e di contribuire a garantire la prosecuzione delle attività lavorative, tutelando la salute dei lavoratori, dei loro familiari, dei cittadini in generale. Sono stati quindi svolti quasi 200 test, fortunatamente non ci sono stati essiti positivi, ma sulla vaccinazione da Coggesa arriva una richiesta diretta alla regione Abruzzo. I nostri informatici e tecnici hanno già predisposto da tempo dei sistemi per operare da remoto su molti comparti, non fermando alcune attività. Chiaramente ci sono dipendenti che non potranno beneficiare di tali sistemi. Pensiamo agli addetti agli impianti nonché ai servizi, ai quali va il nostro applauso e incoraggiamento a fare meglio e in sicurezza. Per questo abbiamo già chiesto alla regione di prevedere una finestra di vaccinazione anche per loro, che sono su strada ogni giorno, spiegano dal CDA. Infine ai cittadini raccomandiamo di svolgere in maniera corretta la raccolta differenziata, come di solito fanno, di prestare anche maggiore attenzione in questa fase alla pulizia, alla sanificazione dei mastelli o dei carrellati in loro dotazione.